Barzaghi ha chiesto a Luisa Alberto di non abbassarsi troppo. Lancio di Chiellini per Alex Sandro, c'è spazio, entra all'interno dell'area di rigore, retro passaggio a quadrato! Occasione clamorosa per la Juventus, si salva Stracoscia con un intervento pazzesco. Tallone però arriva dove c'è Barzaghi, tocco corco verso quadrato, può ritattire però pericolosamente la laccia ancora con immobile. Retro passaggio per Luisa Alberto, carica il destro dalla lunga distanza, conclusione che termina alta. Nessun problema per Gigi Buffon, ma almeno la laccia ha provato ad interrompere. Riparte però la Juventus con Alex Sandro, pallone recuperato da Milinkovic in zona pericolosa. Ancora Milinkovic, cerca la conclusione, pallone alto, record di gol in campionato 23, segnati proprio con la laccia. Milinkovic proprio per immobile, solo davanti a Buffon, immobile, dribbling va giù, immobile! Calcio di rigore, calcio di rigore in favore della laccia, giallo nei confronti di Buffon. Segna immobile, Lazio in vantaggio, 1-0 al 32esimo su calcio di rigore, giro immobile. Credo che volevo ritornare all'azione che ha causato il rigore. Il pallone in avanti a cercare Milinkovic, il colpo di tacco, basta solo, basta, salva Buffon! Ancora Lucas Leiva in avanti la laccia, cerca il destro Lucas Leiva, Buffon in calcio d'angolo. La laccia scatenata, Juventus alle corde. Tu guarda in quest'azione di ricompattarsi. Parolo, prendono posizione nel cuore dell'area di rigore, immobile Milinkovic, il cross di Parolo a cercare proprio immobile. Il colpo di testa ed è un gol spettacolare! Ciro immobile per il 2-0 della Lazio. L'esultanza doppietta di Ciro immobile che va a raccogliere l'abbraccio dei propri tifosi. Un colpo di testa favoloso. Parte Pjanic, morbido, troppo alto. A cercare di bala che cerca di girarsi, eccolo l'uomo che può mettere in difficoltà la laccia. Douglas Costa riesce il dribbling, carica il sinistro, Douglas Costa centrale, para Stracoscia con Douglas Costa. Douglas Costa lo affronta a Luis Alberto. Le finte di Douglas Costa, altro traversone e il pallone! Pjanic arriva dalla parte opposta dove c'è Iguain. Servito Parolo che è diventato capitano dopo l'uscita dal campo di Lulic. Arretrato il pallone per Luis Alberto che pensa alla conclusione. Prova con il destro, si salva Buffon, calcio d'angolo, bravissimo, Luis Alberto. Fa di bala, cerca la battuta ed è un gol meraviglioso di Paolo Di Bala che riapre la partita. Quando alla fine mancano cinque minuti più il recupero esultano i tifosi della Juventus per questa pennellata. Su punizione davvero che dell'area cerca di superare un paio d'avversari. Allarga bene poi per Alexandro al limite dell'area, pallone in mezzo. Si chiude la difesa della Juventus, arriva il calcio di rigore per la Juventus. Fallo commesso ai danni di Alex Sandro. Di Bala contro Stracoscia, parte di Bala! Il pareggio della Juventus, proprio in extremis. Doppietta del numero 10 dell'erede di Sivori, Platini, Baggio, Del Piero. Segna lui, riporta in parità la Juventus. Con il racconto di questa partita, Lukaku prova ad andare in dribbling con De Sciglio. Ancora Lukaku all'interno dell'area di rigore, pallone arretrato. E il gol della Lazio ha segnato Murgia. E' un gol spettacolare della Lazio con i giocatori che vanno a esultare sotto la curva nord. Gol di Murgia, del ragazzo appena entrato, del classe 96, del prodotto del settore giovanile bianco-celeste.